Sì, mettilo sul bancone, ok? Ok. Mi dispiace, ma a volte è tutto molto frustrante per me. Posso capirlo. Mi serve un altro modulo di richiesta. Sai cosa? Non voglio darti nulla stavolta. Cosa? Perché? Perché voglio venire con te. Andiamo. Vieni, soldato. Vediamo se tieni il passo. Certo. Quando è stata l'ultima volta che sei uscita in missione? Nell'incubo, intendo. Ehi, guarda che sono andata a cercare provviste, come tutti. Ma sì, è passato molto tempo. Almeno hai una moto. Sì, ma... Preferisco venire con te questa volta. In questo modo sono sicura di non perderti. Sì, signora. Piantala con... Ehi, sei già stato nell'arca? Le grotte, sì. Mi sono fatto un gran tour appena arrivato, con... Il colonnello in persona. Beh, devi ammettere che hai i suoi metri. È generale, almeno. Le scorte, le regole, la programmazione. Sì, glielo concedo. Quest'isola è una fortezza. Niente e nessuno può entrare senza combattere. Esatto. Ecco, la mia testa. Wow, bel posticino. Ha quel tocco femminile. Sì, lo so. Ma non entro quasi mai in questa tenda. Dormo su una brande in laboratorio. Ma guarda, questa può tornare utile. Me l'ha regalata Matt quando mi sono arruolata. Matt? Il colonnello. Dai, di con... È solo una pistola. Vieni, di qua. Voglio farti vedere una cosa. Ti seguo. Quando sono arrivata qui, la milizia aveva tagliato quasi tutti gli alberi dell'isola. Ho chiesto a Matt, al colonnello, di salvare l'ultimo. Ah sì? Ok. Scusa, perché? Dopo il matrimonio siamo venuti qui a Crater Lake. Ricordi? Un weekend in moto. Ah, sì. Me lo ricordo. Ricordo di aver pensato. Dopo l'eruzione del Masama, la lava si è freddata. Ha formato il suolo e sono cresciuti gli alberi. Ma quanto tempo è servito? Quando ce ne andremo da questa fottuta isola, alla fine voglio che sia rimasto almeno un albero. Ascolta, questa gente se ne frega. Io... Io sono stato nella zona morta. Senti, il colonnello pensa solo a vincere la guerra. Ma se faccio la mia parte, non avrà più bisogno di distruggere tutto. Niente, solo... Lascia perdere. Reggiti. Reggiti forte. Mi importa. College Universitario Trada. Hai presente? Sì, sì. Per far prima, prendiamo il ponte a sud. Andiamo. Sei già stata qui prima? Una volta. Prima di... Sei. A una fiera. Dovevo presentare le eccitanti opportunità di carriera per i biochimici. Oddio. Niente, ma... Sarebbe stato meglio un seminario su come sopravvivere alla fine del mondo. Andiamo. Da qui non si passa. Facciamo il giro. No, aspetta. Posso aiutarti a salire. Pronta? Ci sei? Ci sono. Ok, attento alla testa. Ok. Gesù, che è successo qui? Questo è uno dei primi campi per superstiti. Non sapevano ancora che le orde vanno matte per le superstrade. I furiosi l'hanno invaso poco dopo. Deve essere completamente infestato. Già. Sai già dove andare? Sono stata qui solo una volta, ma il Dipartimento di Scienze dovrebbe essere laggiù. Sono stata qui solo una volta, ma il Dipartimento di Scienze dovrebbe essere laggiù. e non sappiamo neanche cosa ci sia lì dentro. Sì che lo sappiamo, un branco di là. No, dai, meglio fare un giro. E non si passa. No, beh, mi si è nascosto qui e si era barricato alla grande. Guarda qui. La porta è chiusa, ma non sembra barricata. Puoi forzarla? Eh, sì. Forse. Credo di... Una passeggiata. Da qui, via libera. Arrivo. Vieni, dammi una mano. Sì, aspetta. Ok, pronta? Spinge. Di pronta? Sì, andiamo. Oh, Marta, dentro, dentro, dentro. Cosa? Oh, cazzo. Ciao. Ok, ci serve un'altra via. No, aspetta un secondo, un secondo. Ce la facciamo. Cosa? Ce la facciamo. Ah, se usciamo allo scoperto, ce li attiriamo contro a vicenda, quindi... Vediamo perché... Perché non sono qui per fornire fuoco di copertura. Fai fuori gli infetti isolati e io penso al resto. Ma... Ma sei davvero sicuro? Sì, ho una strategia collaudata. Però tu non smettere di sparare, ok? Dicono. Quando sarò uscito, chiudi bene la porta. D'accordo. Non mi tradire! Nikon, attento! Non si provò! Allontanali! Allontanali! Siamo basta! Sì, puoi scendere. È finita. No, tutto sotto controllo. A quel punto saremo già lontane. E adesso? Non lo so. Ho messo in piedi delle difese in un finale. Vediamo se c'è un buco in queste pareti. Un attriggio per salire. D'accordo. Non lo so. Niente? No. Non lo so. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devo trovare qualcosa da tirare giù. Oh, merda! No, Deacon! Oh, merda, merda! Accidenti! No, mi serve qualcosa per arrampicarmi! Un attimo! Deacon, vieni! Non lo so Ma in fondo Cerca di tornare a scuola, ricordi? Oh certo Alla fine ci sei riuscita Meglio tardi che mai Ok, grazie Pronto? Andiamo Va bene Questa volta vado prima io Sì signora Agli ordini Sembra che qui si è scoppiata una bomba Già, potrebbe anche essere Vieni, forse possiamo passare da qui La porta è bloccata Lascia proprio No, aspetta, ce la faccio Vedi, te l'ho detto Visto? Lo dicevo Ce la faccio Sì Sì Ora sappiamo come sono entrati i furiosi La gente non sapeva proprio parcheggiare Sembra sicuro Merda Altre barricate sono ovunque Guarda gli edifici Vedo il dipartimento di scienza È laggiù Ma non solo superate le barriere Ehi, un'altra finestra aperta Ok Vieni, ti aiuto io Come sempre Ma questa volta Non metterci troppo a trovare qualcosa per salire Esatto Brava Fatto Ok Aspetta lì E cerca di non attirare altri erranti Intesi? Sì Sì, d'accordo Farò del mio meglio Sara! Sara! No, fanculo, no! Maledetto bastardo Mollami! Sara, resisti! Andiamo! Andiamo! Lasciami! No, 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 no! No, Sara Cristo, Sara! 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 No, no Sara! Sara! Dove sei perché? Non rispondi Se ti è successo qualcosa Sara! Sara! Sì Oddio, erano Erano davvero una marea Continuavano ad arrivare Sta tranquilla Va tutto bene È passata Dai Andiamo Sto bene Forza Ci siamo quasi Il dipartimento di scienze Sì A vederlo Sembra quasi Che qualcuno Abbia cercato Di parricarsi dentro Forza Maledizione Ehi, calma Di sicuro È bloccata come le altre Un altro Oh, merda Un attimo Che c'è Fermo Aspetta un secondo Oh, mio Dio Sono larve Sono dentro Se quelle larve sono entrate Possessi un verso sul tetto Andiamo Ehi, qui il tetto è più basso Già, ma non sappiamo ancora come salire Sara, vieni Aiutami a spingere Possiamo usarla per salire Ok Pronta? Sì Ok, spingi Così può andare Sì Sì Aspetta Ci sei? Sì Ok, tieniti pronta Le larve danno di matto Se qualcuno invade il loro territorio Non sai quanto mi dispiace Uccidere i più piccoli Come? Che intendi? Mi ricordano quella bambina Quella ferro Tutta che ti ha coltellano di matto Ormai non è la mia più luce Chiediamo sempre questo Tu non puoi da pazzarci Sì Sì Questo era l'ultimo Mi piace, vero? Cosa? Uccidere le larve? No, ma... Devi ammetterlo, sono... Una bella grana Su questo non c'è piove Aspetta, dammi la mano Ok Piano Con calma Ce la faccio Ok Piano Oh, potrebbe essere una grana Puzzano di merda Prova a vivere come loro E vediamo quanto puzzerai tra due anni No, no, grazie Dove stiamo andando? Proviamo in queste stanze Beh, la centrifuga deve essere qui In un laboratorio Un'aula di lezione Un'aula di lezione Un'aula di lezione Non ci sono Fuori di proiettile O segni di qualche violenza Cicuta Presto Eccola lì Quella è la... Centrifuga che cercavi? Sì, è lei Forza Ok Oh, merda Che c'è? Forse avrei fatto meglio a nascondere la moto Ok Diamoci dentro Eccolo Oh Oh Al solito lo sapete Arriva Bene Li ho finiti Resta lì Basta il fuoco di copertura Faccio io Sì Frendilo avanti Odotto È nostro Continua a spostarsi in quel modo Avanziamo Ce l'ho Si muove Frendiamolo Vado avanti Ammi fuoco di copertura Dai via Avanti Agira Ripiego 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 Oh 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 Sta fermo Ocine Quello è l'ultimo grido Ok aspettami lì Arrivo Stai bene Stai bene? Se io sto bene Ma che ti prende? Eh Non lo so Pensavo a quando ci siamo conosciuti Hai sparato con la mia pistola Per spaventare quei bifolchi E tremavi di paura Beh è cambiato molto da allora Ciao Forza andiamocene da qui Cosa è successo Sara? In che senso scusa? No ascolta lo capisco Il mondo è cambiato I nostri amici sono morti Morti Questo non spiega Non spiega cosa dico Perché i soldati mi chiamano la strega di Wizard Island? Senti non me ne frega un cazzo del nome io Non mi è successo niente di diverso dagli altri È la stessa storia di tutti Sì ok Se lo dici tu Ehi di qua Ti seguo a ruota No posso ringraziarti no ok voglio solo che tu sappia che questo è importante per me non c'è di che